Artis è il miglior alleato per ogni tipo di tubazioni e apparecchiature idrauliche per impianti civili ed industriali. Visita il sito www.mistertube.it oppure segui la pagina Facebook Artis SRL. Cavese contro Barletta. Sarà la terza partita di campionato per ambe due le squadre in questa edizione della Serie D Girone H. Sono partiti meglio i metelliani, che hanno vinto ben tre gare stagionali, una in Coppa e due in campionato. E le due vittorie contro Altamura e Afragolese consentono alla squadra di Emanuele Troise di guidare la classifica con sei punti, anche se in coabitazione con altre tre compagini. Il Barletta ha soli tre punti, ma la formazione di Francesco Farina sta trovando una sua identità adesso, anche se al momento segna pochissimo. A dispetto delle intemperie che hanno caratterizzato il meteo a Cava in questi giorni, si dovrebbero recare numerosi sostenitori al Simonetta Lamberti. La prevendita è andata a rilento a Cava, sta andando benissimo a Barletta, ma potrebbe nuovamente risalire nella città metelliana nelle ore antecedenti il fischio di avvio, dato che si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Ambe due le squadre domenica scorsa hanno vinto, la Cavese a Pomigliano d'Arco con la Afragolese, il Barletta nel derby giocato in casa col Molfetta. La probabile formazione della Cavese per domani non dovrebbe discostarsi tanto dal 4-3-3 usato a Pomigliano. Colombo, Rossi e Maffei, Aliperta, Lomasto e Fissore, Bacio Terracino, Bezzon, Foggia, Banegas e Gaeta. È già certa l'indisponibilità di Altobello, che dunque verrà sostituito con Fissore in difesa. Ad ogni modo, mister Troise comunicherà le convocazioni in giornata. Probabile risposta del Barletta, allenato da Francesco Farina, anche questo un 4-3-3. Piersanti, Padalino e Maranci, Vicedomini, Petta e Polidori, Lavopa, Cafagna, Lattanzio, Pignataro e Loiodice. Molti giovani nelle file biancorosse, ma anche elementi esperti dell'AD. Vedi Polidori, Vedi Lattanzio, Vicedomini, Petta, Lavopa e il rigorista Loiodice. L'arbitro che l'AIA ha scelto per dirigere questo match tra Cavese e Barletta sarà il signor Mario Picardi della sezione di Viareggio, i suoi assistenti pacifici di Arezzo e Serra di Tivoli. Tutte le partite della terza giornata nel girone H inizieranno alle 15. Fa eccezione Martina Nocerina, che prenderà il via alle 16.